Benvenuti sul primo episodio di Undertale Allora, come vedete, io ho già giocato a questo gioco Mi chiamavo Lama Però, noi dobbiamo di nuovo usare lo stesso nome Eccoci qua, yeah Allora, è tale quale è andato in normale, solamente che per cellulare No, 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 no No, no Sì, 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 sì Allora, noi ignoreremo tutti quanti i dialoghi, tanto sono tutti quanti inglesi Io se so, io non so tradurre niente E quindi, come vedete, sono bellissimi Sono bellissimi Cos'è quell'occhiolino? Lo posso prendere? Ah, ok Ah, mi ha detto di prendere questi petali Sono pronto? Sì, allora, ok Prendile più che puoi Ah, io li ignoro, non li voglio Ehi, li hai mancati Riproviamo, ok Ok, li prendiamo Ma che bastardo Guardo Isiota Oh, ma è idiota tua madre In questo mondo è uccidere o essere uccisi Come potevo Come potevo farmi scansare un'opportunità del genere Crepa Ma vaffanculo Ragazzi, che facciamo? Un HP Ma che cazzo è successo? Ma dove cazzo è andato? Una vacca! Una vacca! Porca troia E ciao Come poteva una piccola creatura? Come faceva un'orrenda e terribile creatura? Fare del male a una creatura del genere Io sono Toriel Guardiano delle rovine Vabbè, questa qua Questa cosa Vieni con me Ti guiderò verso le catacombe Vabbè Quanto è carino Toriel Pixel Art Oh, però bella musica Aspettate ragazzi Metto un attimo stop Ecco qua ragazzi, scusate Ah, ops Ecco No dai! Non devi andare! Ti voglio bene Dai Ma come? Mi lascia da solo Nella camera Ma che bastarda Io in questo gioco Ci ho messo un'intera notte Ragazzi Per vincerlo Per vincere il primo mondo Vabbè Voglio bene a Toriel Aspetta Sono un bambino felice Sono pure giapponese Ma allora Ho gli occhi a fessure La pelle gialla Guardate Sono benissimo Ciao Allora Premuto Una leva Splendido Sì 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 Che cazzo Ma che che si mi ero baggeato malissimo Un topazzo È adorabile Corri Ovvero Si toglie Parla 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 Io sono un bambino felice Guarda Sono un bambino felice Eh devo proprio farlo ok ciao ha incontrato un dummy cioè un pupazzo non lo so cosa faccio merci no non voglio non lo so cazzo parlo parlo al pupazzo sembra che non li vai a sembra che non li vada di chiacchierare ma brutto bastardo torino sembra felice di te grazie ho vinto 0 xp e 0 oro ma brutti bastardi ok ti seguo toriel ti osservo ok mi assicuro che non faccia niente quel cane e coso andiamo mamma mamma andiamo mamma no una rana si è una rana pensavo fosse una rana perché in questi giochi ci stanno la rana frog it non lo so non lo so che facciamo act faccio un complimento così attorno cioè toriel lo guarda storto ea vabbè andiamo mamma ho paura io me ne vado ciao ciao mamma mamma quando vado a casa guarda che carino le animazioni sono così adorabili e guarda che ci sta pure fissando che pensa che abbiamo un coltello ragazzi qui facciamo la pacifist e vi consiglio di non fare subito una genocide e poi dopo una pacifist perché altrimenti è finale senza anima ok ok yeah moment fin si 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 vaffanculo la visita che offensive di mia mamma mamma per favore di Mohammed mi trovi già parla di relationships Mamà Quizà lo sarà Toriel Mamà Davvero mi do Ragazzi mi ha detto che mi da un telefono Mi dai l'iPhone X Va bene Toriel ci ha detto Di stare qui Ah vabbè E l'ho parlato Toriel Mi hai abbandonato la stanza Vero Ci sono ancora dei pazzi Che ti devo ancora spiegare Sì 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 Te lo giuro Una craccarana Una craccarana E' una craccarana Ecco ho parlato Mi sa che non dovevo dire troppe volte Craccarana Ok gli faccio un complimento Perché è tutto adorabile Oh pregata Possiamo risparmiarla? Sì Abbiamo vinto Due gold C'è due oro Sempre inizio Allora leggiamo Ah sì Rip 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 Allora in pratica ci aveva detto di non agire sempre E di attaccare E di attaccare Di attaccare però Non Cioè sconfiggerli Ma non proprio ucciderli Del tutto Cioè lasciarli tipo con uno di vita E ci ho detto di risparmiare Uh ecco Un punto di salvataggio Un ghiribizzo Non aspetta Consoliamolo E' così adorabile E' così adorabile E' scomparso Sei andato Brutto bastardo Volevo parlare con te Era così adorabile E cosa è questa cosa? Sono i pancake Pancake No erano decisamente delle crepe Oh No Un frog it Complimento Perché è molto carino Sono tutti quanti carini No no Le zanzare No le zanzare No Le zanzare No Ok andiamo Eh sì E perché cazzo Toriel Hai dato un po' Gli zibidei Ehm Pucandamon Sì C'è per che cazzo Hai rotto gli zibidei Toriel Finalmente Sì Sì Ma eravete tutti quanti Rotto il cavolo Consolo Ma basta scappare Ma non sono brutto E' Non faccio paura Sono solamente un bambino Con un pigiama Basta Ciao Scrivetemi sotto nei commenti Se volete che io vi dica come si scarica questo gioco Che è molto gratuito Non dovete scaricare niente Io uso una tecnica segre... Nooo Io giuro solo a sta parte Ma non voglio Cadere di nuovo Basta Sono le gelatine Posso dargli un... Posso... Ah posso già... Aspetta Posso imitarli No No Cosa sto schivando Palline piccole Non so come cazzo ho fatto a schivare Un oro Wow Vale tantissimo Un sasso che parla Ok Spostati Spostati Devi andare su... Vanno lì Bruco sasso di merda Lo fai apposta Ok Ma allora sei proprio un bastardo eh Aspetta Ma basta Cosa Cosa Due oro Vabbè vai Por manco Aspettate ragazzi Che faccio sto punto di salvataggio Poi ci salutiamo Anzi no 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 Affrontiamo solamente una cosa Dobbiamo fare solamente una sola cosa Che voglio Sì No Sta più Zzz 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 Se ne è andato Zzz Questo fantasma ripete la lettera Z Pringendo di dormire Ma è un idiota Ma non è vero Lo sporsi con la forza Va bene Ecco Una delle osse più belle del mondo Ascoltate Come stavo dicendo Andiamo C'è che No 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 Aiuto Cos'è sta roba Cosa Cosa Cazzo Ho visto Raga Ti temi nei commenti Cosa Non so Non sono Non sono In butta Scusa Non fa niente Non fa niente Non fa niente Perché sta piangendo All'incontrario Io lo chiamo Mister Blook Ti piace È adorabile Ma non ho nemmeno Premuto il pulsante Cazzo Che carino Ha detto Che noi siamo La prima persona Che lo apprezza Guarda Abbiamo Sette G G Precisi Vai Aspettate Ragazzi Che saliamo E ci salutiamo Però Non incontrare Un mostro Ovviamente E ragazzi Per questo video Noi Ci Sal Lu Ti Amo Ciao